All'incitazione di Iamonnanzi, andiamo avanti in Aquilano, la società L'Aquila Calcio lancia la campagna abbonamenti. Nei giorni convulsi delle inchieste giudiziarie, la società prova a rialzare la testa e si affida all'associazione Iamonnanzi, che ha reso famosa l'aquilanità in tutta Italia, fino al Soglio Papale. Il motto, come un mantra, apre una stagione di abbonamenti che, eccetto la tribuna centrale, ha scontato tutti i settori. Particolare attenzione è stata data ai disoccupati alle famiglie, ai quali è dedicato un abbonamento speciale. I vecchi abbonati poi mantengono, si acquistano l'abbonamento in tempi brevi, il diritto di scegliere lo stesso posto della stagione precedente. L'Aquila Calcio è un'eccellenza della nostra città, ci hanno chiesto la possibilità di utilizzare il nostro brand per la campagna abbonamenti 2015-2016, come proprio messaggio di positività, di resistenza, di non rassegnazione, un messaggio di speranza, è quello che caratterizza il nostro gruppo dal 6 aprile 2009. Per noi questo è stato molto gratificante perché significa che il nostro gruppo sta facendo cose che sono comunque attenzionate e che hanno un riscontro positivo e che vengono valutate nella maniera che noi vogliamo siano valutate, ossia appunto in uno stimolo a non fermarsi, andare avanti. Grazie. Grazie. Grazie.